Ciao a tutte mie divine, oggi voglio parlarvi di un prodotto senza il quale la nostra estate non potrà essere la stessa e sto parlando di Valentina, il siero anticellulite ma in sezione aurea Siamo ormai ad aprile e se tutto va bene la prova costume sarà alle porte quindi è bene cominciare un attimino a rivedere le proprie condizioni fisiche ovviamente facendolo con un po' di attività fisica, bevendo molta acqua procurando anche il nostro corpo con dei prodotti e con dei trattamenti Valentina è uno di questi, è una crema in gel, quindi proprio un siero che si applica sulla pelle o come unico trattamento anticellulite oppure come trattamento preparatorio per altre applicazioni come ad esempio la crema rassodante Alessia oppure l'olio secco anticellulite Cecilia scendiamo un attimino nel dettaglio e vediamo cosa contiene questo prodotto magico è a base di idrolato di rosa centifoglia, contiene degli oli molto pregiati come l'olio di vinaccioli e l'olio di avocado ma contiene anche vitamina C e vitamina E, la caffeina che fa benissimo per i trattamenti anticellulite e contiene tantissimi estratti veramente molto molto particolari abbiamo l'estratto di mirtillo nero, abbiamo l'estratto di betulla bianca, le bacche di goji, la melagrana quindi abbiamo tutto questo pool di attivi che conferiscono al prodotto proprietà antiossidanti drenanti e stimolanti per il microcircolo quindi il risultato è una pelle molto compatta, levigata e tonica vi faccio vedere la texture è proprio un gel che si assorbe molto molto rapidamente quindi se siamo sempre di corsa doccia, applicazione di Valentina e via ci si può vestire direttamente se invece vogliamo andare a fare un massaggio un pochino più approfondito il massaggio ve l'ho spiegato nel video in cui vi ho parlato di Romina quindi se vogliamo andare a fare un massaggio un pochino più prolungato possiamo applicare Valentina sulla pelle ancora bagnata oppure umida e quindi questo ci permetterà di massaggiare molto di più e quindi di dedicare un po' più di tempo alla nostra coccola anticellulite se avete già utilizzato Valentina o gli altri trattamenti anticellulite scrivetemelo, se avete dubbi scrivetemelo e io intanto vi saluto, vi mando un bacio e con questo stile afro vi mando al prossimo video ciao! ciao!